Mi è stato chiesto di spiegare come funziona il sistema di democrazia partecipativa che viene utilizzato per discutere la raccolta differenziata tra stevere. È molto semplice. Supponiamo che voi abbiate il link. Dove l'avete trovato? Questo non entra. Voi andate in questo link e trovate, invece che trovare le varie proposte, vi viene chiesto se volete partecipare a questa applicazione. Questa è un'applicazione che permette di votare e quindi dovete accettare questa applicazione fondamentalmente. Quindi voi andate all'applicazione e a questo punto vi dice se volete connettere il vostro nuovo account di Vilfredo con l'account su Facebook. E dovete dire di sì. Tirate fuori un nome, Pietro Speroni in questo caso, e vi registrate. Dopodiché cliccate Prosegui. E a questo punto si apre la domanda. Come organizziamo la raccolta differenziata tra stevere? Qui ci sono alcune proposte che sono già state fatte. Le proposte sono, abbassiamo un po' perché se no non si legge, le proposte sono in ordine temporale, cioè questa è la prima proposta fatta, questa è la seconda, questa è la terza, questa è la quarta, e come vedete hanno alla fine anche il numero di voti che fino adesso hanno raggiunto. Se noi vogliamo votare per una di queste, adesso io voterò per tutte e quattro per non dare la preferenza a nessuno, se no sembra che sto sostenendone una rispetto all'altra, semplicemente noi andiamo sopra e clicchiamo. È una cosa semplicissima. Non solo, ma noi possiamo anche levare il voto ricliccando, così. Vedete che infatti dove abbiamo votato sono in verde e quelle invece che non abbiamo votato sono in blu. Notate anche un'altra cosa, che il sistema permette di distinguere automaticamente quali proposte stanno andando meglio, non soltanto da un punto di vista di numero di voti, perché se una proposta è stata presentata prima, evidentemente avrà più voti di una che è stata presentata dopo, perché ha avuto più tempo per raccogliere i voti. Quando però questo non è vero, a quel punto questo il sistema ce lo fa vedere. Vediamo per esempio queste due proposte, queste hanno entrambi quattro punti. Se noi per esempio andassimo a votare a questa proposta, il risultato di questo sarebbe che questa proposta scende. Perché? Perché a questo punto c'è una proposta che è più giovane e che ha più punti. Noi però non vogliamo in questo momento fare questo. Notiamo che se vogliamo aggiungere una proposta, è molto semplice. Si clicca su Proponi ed esce fuori una forma dove scrivere la nuova proposta. Le proposte possono avere un massimo di 500 caratteri e la raccolta differenziata dovrebbe funzionare e poi qui io posso scrivere quello che voglio. Qua sotto dice quanti caratteri sono ancora disponibili. La proponiamo e vediamo che la proposta entra nello schermo da destra a sinistra e si aggiunge alle altre. La proposta è verde per indicare che è stata, che c'è una persona che la vota e che sono io che la voto. Perché si suppone che una persona sostenga la propria proposta. Se io voglio però posso cliccarla e levare il voto. E poi posso anche rimettere il voto. È possibile poi modificare le proposte che si sono scritte finché nessun altro le ha votate perché nell'istante in cui un'altra persona ha votato quella proposta quella proposta diventa è come se fosse un contratto. Non puoi cambiarlo dopo che l'ha firmato. Quindi noi potremmo modificarla oppure addirittura cancellarla. la proposta è stata cancellata e a questo punto mi dice che non ci sono altre proposte disponibili per cui chiudo questa parte. Come vedete è molto semplice. Grazie. Spero che vi sia utile e che vi vedremo partecipare. Grazie.